Vi siete mai chiesti se le profezie sulla Chiesa Cattolica potrebbero celare un fondo di verità? Ecco cosa sta accadendo in queste settimane che sta tenendo con il fiato sospeso credenti e non... Cosa c'è di vero nelle teorie che avvolgono Papa Francesco e le profezie che preannunciano eventi straordinari? Scopriamolo insieme. In un mondo dove la realtà supera spesso la fantasia, le figure di spicco come Papa Francesco si ritrovano al centro di teorie intricate, alcune delle quali tratte da profezie antiche. Un recente episodio a Trevignano, vicino Roma, ha catturato l'attenzione. Una statuetta della Vergine Maria avrebbe pianto liquidi organici. Un evento che mescola fede e mistero e che la Chiesa Cattolica osserva con cautela. Dall'inizio del suo pontificato, Papa Francesco ha affrontato non solo sfide terrene, ma anche il peso di teorie del complotto e profezie, tra cui quelle di Nostradamus, che alcuni interpretano come presagi inquietanti sul futuro della Chiesa. Queste narrazioni si intrecciano con questioni più tangibili e gravi, come gli scandali che hanno coinvolto membri del clero, che il Vaticano ha condannato con fermezza. Che ne pensate di queste profezie e dei recenti eventi intorno a Papa Francesco e alla Chiesa? Lasciate un commento con le vostre opinioni e riflessioni. Le profezie su Papa Francesco spaziano dall'esoterico al catastrofico, con alcuni che vedono in lui il Papa Nero, l'ultimo pontefice prima di un presunto declino della Chiesa. Le profezie di Nostradamus, in particolare, parlano di malattie, catastrofi e guerre, una visione apocalittica che alcuni collegano ai recenti eventi globali. Per non perdervi ulteriori approfondimenti su queste storie affascinanti e complesse, iscrivetevi al canale e attivate le notifiche. Insieme, esploreremo i misteri che avvolgono la nostra realtà. Le profezie e le teorie sul futuro di Papa Francesco e della Chiesa Cattolica stimolano la curiosità e il dibattito. Tra fede, storia e mistero, il nostro viaggio alla ricerca di risposte continua. Questo è tutto per oggi. Grazie per averci seguito. Continuate a riflettere e a cercare la vostra verità. Alla prossima!